Mamma mia, mamma mia, premetto due cose, due, due, la prima, fiducia, fiducia a tutti, pa' amore di, fiducia, prima che mi rompete le palle, eh ma devi avere tempo, devi avere fiducia, fiducia, pa' amore di, fiducia, fiducia, seconda cosa, seconda cosa, tu non sai come cazzo hai fatto a vincere questa partita, hai vinto grazie a un autogull, punto. Eppure la partita è iniziata pure bene, è iniziata benissimo, perché in fase offensiva ho visto una squadra bella, una squadra che ha creato tantissimo, pa' amore di, una squadra che ha seguito l'idea della miglior difesa e l'attacco, perché visto che la difesa nostra fa cagare a spruzzo, hai attaccato, hai attaccato pure bene, traversa di Osiman, diverse occasioni, pa' carità, primo tempo, benissimo, è pure segnato, va benissimo così, il rigore non c'era tra parentesi su Osiman, ok? Ti ho aspettato un secondo tempo, no, sulla stessa scia, sulla stessa strada, sulle stesse cose, eppure abbiamo sofferto come i cani, con tutto il rispetto per i cani, che, non lo so, abbiamo sofferto con lo Sporting Braga, lo Sporting Braga, non con Real Madrid o Manchester City, Sporting, cazzo, Braga! E mo' non mi venite a dire, ma lo Sporting Braga è uno stadio difficile, col cazzo! Tu te l'hai magnà! Tu sei il Napoli! Tu sei campione d'Italia! Te l'hai magnà! Te l'hai magnà! Come finito il primo tempo? Dovevi iniziare così il secondo! Ricordo che, al di là dell'occasione di Osiman, ok, il secondo tempo è stato pessimo, è stato ridicolo, è stato di un atteggiamento rinunciatario, e venitemi a dire! Eh, ma critichi pure durante una vittoria! Sì! Sì, cazzo! Sì! Sì! Io ieri l'ho detto nel video pre-partita, e l'ho detto anche in live! Questa partita era, adesso, uno spartiacque! Dovevi, uno, fare una vittoria, vincere, e soprattutto convincere, quindi dipendeva, il mio stato d'animo dipendeva anche dal come avresti vinto, e secondo punto, cosa importante che sicuramente, io spero di non leggere certi commenti, del tipo, esim turnat, e fare i soliti arroganti! Eh, ma sim è più forte, sim casim là! Non abbiamo risolto un cazzo, ripeto, abbiamo vinto, l'unica cosa positiva di questa sera, ma per il resto, una merda! Perché il secondo tempo è stato una merda! Cioè il gol dello sport in Braga è avvenuto per le cazzate di Cassià, per l'atteggiamento di merda che ha imposto Cassià! Perché lui voleva fare l'Allegri, voleva fare il Simeone, ma questo Napoli ha il DNA di comandare, di giocare, di divertirsi, non di difendersi e ripartire, che poi non partivamo manco! Ma ci rendiamo conto che in 90 minuti abbiamo visto lo Sporting Braga spalleggiarci in faccia, lo Sporting Braga, Cristo Santo! Io ho paura di quello che potrà dire Cassià, ho una fottuta paura di quello che potrà dire! Mamma mia! Cioè appena ho visto questo atteggiamento rinunciatario che è avvenuto quasi a 5, 10, forse 15 minuti dall'inizio del secondo tempo, io ho detto, aio, o cambiamo atteggiamento o questi ci segnano. E giustamente, pum! Giustamente ci hanno inculato! Da dove? Dal nostro, dal nostro, eh, zona di campo debole, Olivera, Guayesus, che insieme ad Anglistan sono stati i peggiori in campo! I peggiori in campo! E questo è grazie a chi? A De Laurentiis! Che non ha preso un post-kim di livello! E mo' noi stiamo facendo una stagione, questa è la quinta partita consecutiva di Guayesus, che l'anno scorso era il quarto difensore! Eh! Ma Dio santo, vedi che il primo tempo hai seguito la logica e mi... l'attacco e la miglior difesa? Seguila anche nel secondo tempo! Invece no, Amis! Nathan al posto di Zelischi, all'ottantottesimo, facendo un 5-3-2-5-4-1-1-1 Non ho mai capito come cazzo l'Amis! Ed io là ho avuto le vibes di Gattuso contro l'Atalanta! Ho avuto le vibes! Ovvero, che cambiò un difensore, alla fine primo tempo tipo, e la franta segnò! Cazzo, è la regola base! Mai sostituire un difensore e cambiare l'assetto tattico difensivo, alla fine! Mai! 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 Io sfido chiunque a dire... Bella partita! Sfido chiunque! Primo tempo buono, ma non ottimo! Primo tempo buonino! Secondo tempo... Mamma mia! Ma un calcio sulle palle sarebbe stato meno doloroso! Io non voglio... Io... Mamma mia! Ed ero il Sport in Braga! E domenica abbiamo in Bologna! Un atteggiamento del secondo tempo rinunciatario! Un atteggiamento che, ripeto, questo Napoli non può mai avere! Mamma mia! Perché hai da vittoria importante! Ma non sai manco tu come cazzo hai vinto! La vittoria più brutta degli ultimi anni! O meglio, la vittoria più brutta dell'era terrorica dell'Aurentis! Lo posso dire? Lo diciamolo! Che poi non capisco il cambio di Kvara... Cioè, già dal cambio Kvara-Skele e Elmas ho detto... Ok, questo lo vuole contenere! Perché Elmas non è attaccante! È più centrocampista! È più difensivo! È grazie a cazzo! Che ti difendi! Cioè, ma vedi che Usiman non sta in giornata tra i palo, l'essere egoista? Metti Simeone! Abbi un po' le vale di mettere Simeone! Ma ancora già abbiamo visto Lindstrom, per esempio! Che l'avrei messo a posto di Angissà! Per esempio! Per esempio! La mia ignoranza! Io non lo so! Abbiamo vinto, sì! Ma... Onesto, non sono contento! Non sono contento! Si è fatto palle già in faccia con lo Sporting Braga! E io dovrei essere contento! E giustamente i provocatori devono dire... Eh, ma il Napoli ha il livello dello Sporting Braga! Intanto! Il Napoli! È l'unica squadra in Champions che ha vinto! E qualcuno dirà... Grazie a cazzo! Affrontavate lo Sporting Braga! Intanto! Siamo l'unica squadra italiana che ha vinciuto! Intanto! Io spero il Garcia... Io non sono un tipo che... Dice Garcia out e spera che... E spera che... Garcia faccia male, perdere le partite per dire... Sì, avevo ragione! No, io spero sempre nel bene! E do sempre fiducia a Garcia! Ok? Però deve avere un po' di equilibrio! Deve avere un po' di equilibrio! Non deve essere... Come dire... Non deve cagarsi sotto! Non deve avere paura! Se nel primo tempo ha giocato in un moto, deve continuare così! Peggiori in campo! Anche sa! Ma Jesus e Olivera! Migliore di Lorenzo! Possiamo dire? Migliore di Lorenzo! Un po' che per la schede dell'Obotka! Che l'Obotka l'ho visto un po' per centro del gioco! Un pochino! Domani le pagelle! Forza Napoli sempre! E che San Gennaro ci accompagna! Mamma mia che assurata! Ciao io!